Si è tenuto ieri pomeriggio presso il Grand Hotel Salerno l'evento Il Geometra, evoluzioni e prospettive future. L'iniziativa, con la partecipazione del Presidente del Consiglio Nazionale Geometri Maurizio Savoncelli, nonché dei Presidenti dei Collegi dei Geometri della Regione Campania e di altri rappresentanti di categorie a livello nazionale e regionale, ha rappresentato un'importante panoramica sull'attività professionale in continua evoluzione. Organizzato dal nostro collegio Geometri e Geometri lavorati dalla provincia di Salerno con il patrocino del Consiglio Nazionale Geometri e dai vari collegi provinciali della Regione Campania. Quindi si parlerà del Geometra protagonista, il Geometra e le sue evoluzioni e il Geometra e il suo futuro. Nell'ambito di questa manifestazione si consegneranno gli attestati di merito ai colleghi oltre 150 che hanno partecipato alle attività emergenziali Terremoto Centro Italia e Istola di Ischia. Quindi un particolare ringraziamento a questi colleghi che subito, fin dalle prime ore dopo il terremoto hanno portato la loro alta professionalità nei questi luoghi terremotati.